puoi scendere alle 5 andri anche giù al palazzo no no non lo so più mamma devi andare a tennis mamma vedi alla fine adesso non vuoi scendere fatti capì che amici di merito non vuoi scendere ma dai ho tennis non mi piace ah vedi che è vicino a me che io non voglio scendere mamma provo con francesco e ma la chiamo e ma la bu ma lui non dovrebbe andare a basket perché lui va i miei stessi giorni ma la bu Alla prossima 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 Alla prossima